Ma al solito io divento sempre francese Ah ti porti dietro Sei guggio? Indio di un cane Ti serve per risparmiare Cacchio mangi tu Ultimamente sto portando Remake Resident Evil Poi Uncharted In un certo senso In realtà è rimasterizzato Ad ogni modo salve a tutti ragazzi Con voi Vincent siamo con un'altra demo Questa volta con Final Fantasy VII Facciamo standard Perché non voglio fare una cosa troppo semplice E' cronica E' chiusura È che fuori Sono Grazie a tutti. 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 Provo a colpire il nemicio. Nemicio. Sì, il micio! Consumendo la barra puoi usare le abilità magie e oggetti in battaglia. Facciamo questo qui. Vabbè, ma forse sprecare certe cose contro questi nemici mi sembra un po' esagerato. Dovremmo utilizzare queste ruove contro nemici più potenti o comunque contro dei boss. E comunque volevo dirvi neanche un po' esagerato. E comunque volevo dirvi neanche il sassuro che adesso non me lo sapevo. preferisco di gran lunga il doppiaggio giapponese. Preferisco di gran lunga il doppiaggio giapponese. Eh eh eh, volevi. Ehm, volevi. Oh! 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 Quale è il fatto? Basta fare il triangolo. Due pozioni. Eh sì, aspettate perché non sapevo... Ah, ecco. Se volevano il doppiaggio, oppure comunque i dialoghi in giapponese con i sottotitoli in italiano, oppure i dialoghi inglesi in inglese. Praticamente tutti quanti hanno scelto lo giapponese, perché appunto è molto meglio, cioè comunque più espressivo. Ma comunque si adatta. Quindi è... Combacia, diciamo così, con i sottotitoli in italiano. Barret? A barretta? No, dovevo continuare a parlare però. Uh, tosta questo. Comunque vi devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Lui magari non pensano che sei un vero credente, ma sai cosa che penso? Lui è indifferente. Lui è indifferente. Lui è solo... Sangue freddo. La battaglia è la sua vita. Uh... Beh... Hai dovuto essere valuto l'argento, Murk. Ogni ultimo giro. Certamente. Oh! Ah, cane! L'ho parato senza... Sì, sì, vieni. Sono forti però i cani, eh. Ci hanno una potenza. Ah, sì! Ah! Stremo? Che significa? Ah, non faccio più danno. Ah, cane! Con tutto il rispetto per i cani, eh! Ah, ti porti dietro... Segugio? Segugio.it? Ti serve per risparmiare, eh! Incazzato, Barret, eh! Ah! Ah! Inutile! Ma sembrano pantere! Eh! E la miseria! Vagamondo! Che cavolo! Sto cane! La faccio tenere legato! Oh, ehi! Mi ha attaccato il cane! Giusto giusto quando stavo cercando di curarmi! Uno spettacolo, eh! Mettiamo bene in chiaro una cosa! Devo capire bene sta roba! Eh! Cacchio mangi, tu! E vabbè, ma scusa! Sto cercando di prendere una pozione per riuscire a recuperare vita! Solo che se il cane continua ad attaccando giusto giusto quando io cerco di prendere vita... Eh! E scusate tanto! Oh no, cane! Oiii! Hai rotto, cane! Ma... Molto d'occhio! Posso? Per l'amor di Dio! Ok! Eh, ok! Finalmente! Ce n'è voluto però! Siamo dovuti morire! Non si capisce quando devo! Ma ti faccio affettine! Mi spiace per tutti i cani che stanno vedendo sto video! Figlio di un cane! Dopo tocca a te, eh! Che anche tu hai collaborato con sto cane! Ehi! Prometto! Non credo di giocare! Cioè... Sto giocando... Alla grande! Però... Ma non fate più i grassi, eh! Con i cani vi sapete di farlo! Ma al solito io divento sempre francese! Eh, caro Barret! Barretta mia! Io dove vado? Eh, ciccio! Wedge! Che sta a fare? Ma sto lì! Che! Che! Che è un po' di più! Che sei da guardare? Stamm, ciascuno per cuciare la mano che lo spiega? O è il mio figlio piccolo? Ma guarda il tuo senso, Mutt! Potremmo fare con te o senza te! Un reattore diverso, un raiutore diverso. Depende da quando l'ho diseccato. Non ho mai visto uno così... Lui, come abbiamo sentito, faceva parte della She-Ra Che è appunto antagonista, in un certo senso, di questa... della storia Magari quello pesante lo facciamo quando c'è un boss Sì, salve, gente Questa è una buona cosa che conosco qualcuno che può ottenere i passcodes Pidio che nessuno a comandare potrà parlare con noi, ma cosa puoi fare? E allora siamo bene Cuore l'interno Quindi, tu conosci Tifa, no? Non è proprio mio negozio, ma... Sì, tu conosci? Ancora, sì, da... Tifa e io... Sì. Questi suorati sembra che si chiamano avalanche, signor. Ci stiamo investigando se si appartiene alla stessa gruppa che ha fatto l'attempo di tua vita. Resti assurati, i nostri inquiri non prenderanno molto più lungo. Questa è un'attempo di soli di soli di soli, mentre ti dormi, mentre ti mangi, mentre ti mangi, mentre ti mangi. Questo non resta e non importa. Hai capito che è quello che è Marco, non ti? Marco è la vita del nostro mondo. Il soli è rosso, come te e io sono rosso. Cosa cosa pensi che succederà quando è fuori? Ma risposta! Ti stai a stare qui e piacere che non puoi sentire che non puoi sentire la stessa pelle? Certo che puoi sentire! Cosa sentire? Cosa sentire? Prendi un'altra giusta. Hai un'altra giusta. Dicare questo ancora! questo si stava rambitando Oh no. Vabbè Ah, sono passate a Barrett Non ci vedo Eh, non ci vedo un chiacchio Che maledizione, mi ha colpito a me Spaccato? Ok Oh Vai, vai Ok Ho messo un po' di tempo Oh No Eh, vabbè State calmo, buffone Barrett, ma che stai combinando là dietro? Sento rompere un po' di cose Immagino Oh cavolo Che scemo Ci sono andato proprio addosso Una parte così semplice Uè Madonna No Aia E va buovà Sto facendo tutto male E la miseria L'ambientatore Si abbassi la guardia Ah, ma sta sparando a lui Come non detto Un po' di tempo 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 Che cavolo Ho perso un botto di vita però Sia con Cloud che con Barrett Cloud poi non ne parliamo E la miseria Nel lì dove ho metto la bomba Un po' di tempo Un po' di tempo Un po' di tempo Hmm Go on Do the honors Prove to me You're the man Tifa says you are That you're one of us Never said I was I'm just here for the paycheck Then do the damn job What's wrong? Hmm 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 I'm fine What about the timer? You're calm, Merc Non lo saprei Hmm Io che non ho mai giocato Un mettere i 30 minuti Huh That long enough for you? Se vuoi te lo cambio, eh Ma se c'è pericolo Ecco Stavo pensando Ma se tanto Che questo è un posto adatto Per una Per un boss Oh cavolo Secondo me dobbiamo stare attenti Oh Wow Oh Vai Beccati questa Oh No M'ha preso Questo deve essere tipo il secondo round Eh vabbè Ma proprio Come stiamo giocando bene Perfetto Facciamo 20 minuti Ti va bene? No Nooo Lo sapevo Buotalo giù imbecile E' stata tutta una cosa Una questione di tempistiche Eeeh C'è una granata Buttala addosso E va a fange Stringo Esattamente dove gliel'ho lanciata la bomba Nooo Madonna Mi sono cagato addosso Ho schivato una cosa e ne ho presa un'altra Ehehehe Fantastico Beh da Sto facendo veramente Lo schifo Lo schifo Capisci lo schifo? Esattamente Proprio quello Per più difficile di quanto pensassi eh Davvero Devo ammetterlo Cioè non pensavo fosse semplice Ma neanche così tanto difficile Porca miseria Sto morendo di nuovo Dire Riusciamo a fare qualcosa di buono Non serve Penso eh Cosa proprio di no Ma cos'è? In cosa sbaglio io? Guarda Veramente Sto sudando quattro camice Mamma mia Cioè sì e no Ho fatto arrivare a metà Sì e no Esattamente di no Ho fegato L'unico problema E che non so che cosa mi manca Oh 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 Pian 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 No vabbè veramente Puglia sta cosa Non ho capito che caspita Ce devo fare eh Cosa dovrei fare in questo momento? Cosa c'ho la miseria? Eh vabbè non mi riparare niente Come dire felici e contenti? Ma certo Vabbè va Ma riuscito Oh bella Era l'unica cosa che poteva andare bene Ora non la posso manco più utilizzare Che bella Sì però adesso Mi conviene prendere Una bella pochino Sai come se non ne stessimo già prendendo un sacco Come se non ci stesse colpendo cucchetti proprio Awe calma E vabbè Ma ne devo già prendere un'altra Splendido eh Come il pane Ce la faranno i nostri eroi A utilizzarla per bene? Speriamo Guarda Bene Tutti questi danni Non so se sono serviti a qualcosa veramente Oh mio dio Oh mio dio No Oh mio Facciamo facile Perché veramente io ci sto mettendo tre anni Ma ve Ma vi giuro Vi giuro E con tutta la buona volontà Però non è che ci posso mettere l'eternità Veramente Mi sa che non abbiamo concluso un tecchio Che bello Come utilizzare le abilità? Cacchio Tutorial By Vincent E mo scappa E avrei voluto combattere in questo modo Anche prima Solo che Bo Nada dai nada Utilizzare robe a cavolo E' il nostro segreto Da due ore che ci sto provando non riesco Un po' perché sono scemo Io ti mi metto da usare Un po' perché è proprio lui che E' un gran figlio di Vaffanio E' da mezz'ora che sto facendo sta cosa Anche se Di più In realtà di mezz'ora Un po' perché le bomba 20 minuti fino a 20 minuti Ma perchè il timer si è fermato? Aspettate qui! Aspettate a Jesse! Venite qui! Questo gruppo dovrebbe portare a Barrett! Aspettate qui! Aspettate qui! Aspettate qui! Barrett! Aspettate qui! Aspettate qui! Ma allora... Non preoccupare, sarei ok! Ho bisogno! No, di nuovo! E che spinge? Dai, 15 minuti! 15 minuti, adesso sta scritto 3, 2, 1 Sì! 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 A presto la più ciò. Cortajò! Scorpio! Vabbè, quello l'hanno provocato loro, eh. Ehi, come no? Sì, come no? Eh, questo è caduto perché, sai com'è, ho fatto finta. Ok, questo era abbastanza cool. Allora, vabbè, vabbè. Mondistamente, secondo me. Ok, è finita la demo. A me è piaciuta molto. Certo, tralasciando il boss magnifico, veramente. Lo chiamavano il re scorpione. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non vi è ancora fatto. Buonanotte o quello che è. No, 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 no. Meanwhile